Lei si chiama Angelica Spezzamonte, proprio oggi ha spento le sue prime 103 candeline. E sì, perché la signora della classe 1917 di cose ne ha viste cambiare negli anni. Pare che il suo segreto di longevità sia dovuto al duro lavoro nei campi. Oggi Angelica è stata festeggiata dalle due figlie e dal figlio maschio, assieme ai tanti nipoti e pronipoti. Con loro anche il sindaco Flavio Dall'Agnol, il vice sindaco e donna Giovanni Bellò.